Cari concittadini, buongiorno e buon venerdì. Ieri la Giunta Comunale ha deliberato gli indirizzi per il perfezionamento della convenzione con l'Associazione Polaris per la realizzazione del museo tattile e sensoriale in Palazzo Altan. Sarà uno dei pochi esempi di questi spazi culturali e sociali nel nostro paese. Siamo molto orgogliosi che con l'Associazione Polaris, che rappresenta un sodalizio molto importante per la nostra comunità, per le tante attività che ha realizzato e sta realizzando per tutti noi, per noi risulta molto importante e molto soddisfacente con loro realizzare questa grande esperienza. Investiremo delle risorse per adeguare gli spazi del primo piano in Palazzo Altan e attendiamo che con i prossimi mesi dell'anno questa grande idea, questo impulso che poi ci è prevenuto anche da tante realtà, possa prendere vita e concretizzarsi qua nella nostra San Vito, qua nel nostro centro. Assestamento di bilancio la prossima settimana, ci sarà il Consiglio Comunale giovedì, e presenteremo l'assestamento di bilancio così come l'abbiamo formulato nell'esecutivo. Abbiamo a disposizione ulteriori risorse, soprattutto legate agli interessi attivi sulle giacenze, quindi leve di carattere finanziario, e andremo a rafforzare i nostri servizi, andremo a rafforzare le nostre aree in piena coerenza con il nostro programma elettorale, con il programma elettorale dell'amministrazione e con l'Agenda 2030. L'Agenda 2030 che rappresenta la visione complessiva dello sviluppo della nostra società, naturalmente nella quale il Comune di San Vito fa parte, della quale fa parte, e oltretutto, come ormai è noto, ci siamo dotati del report di sostenibilità proprio per misurare i passi in avanti rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030. Quindi tutte le iniziative, i finanziamenti, le attività della nostra amministrazione devono essere, saranno coerenti, sono coerenti rispetto a questo tipo di percorso. Andremo a stanziare 67.500 euro per il rafforzamento del nostro capitale umano, delle persone, dei nostri dipendenti, con un particolare riferimento al rafforzamento dell'area opere pubbliche, proprio per accelerare la realizzazione delle tante opere che abbiamo in programma. 25.500 euro per le politiche giovanili, 30.000 euro per lo sport, 97.000 euro per la vitalità, quindi eventi e tante iniziative di carattere culturale, 100.000 euro ulteriori per la manutenzione del verde e per la manutenzione degli alberi, 62.000 euro per le manutenzioni ordinarie al patrimonio pubblico, dove intendiamo soprattutto gli immobili, ma anche il parco auto, l'arredo urbano e la segnaletica. Per quanto riguarda invece la parte degli investimenti, andremo a stanziare 15.000 euro per la nostra protezione civile, dotandola di ulteriori strumenti per la loro preziosissima attività, 263.000 euro per il nuovo piano regolatore, dato che abbiamo avviato l'attività proprio di elaborazione dello stesso, di questo strumento molto importante per la pianificazione, dello sviluppo della nostra cittadina nei prossimi anni, e altri 100.000 euro che si andranno ad aggiungere, già 600.000 euro per l'ampliamento dell'asilo nido, di cui 335 intercettati col PNRR, altri messi e stanziati con risorse proprie, e andremo a stanziare ulteriori 100.000 euro per la manutenzione straordinaria della parte restante, quindi andremo a riqualificare questo prezioso immobile, questo importantissimo immobile che rappresenta naturalmente un servizio molto molto importante per le nostre famiglie. E oltre a questo altri 110.000 euro per le manutenzioni straordinarie del patrimonio pubblico e dell'arredo urbano, altri 300.000 euro per lo sport, per gli impianti sportivi, con particolare riferimento alla nostra piscina comunale, e ai campi da calcio. Gli eventi di questo fine settimana, ci troviamo qua in Corte del Castello, domani alle ore 5.30, uno dei momenti più belli, imperdibili dell'anno, tra la storia e la gente, il concerto all'alba, le gradinate del castello, con l'Accademia d'Archerigoni, con il maestro Domenico Mason, e appunto nei gradoni di questo spazio molto bello e molto evocativo, e naturalmente alle 5.30, con le prime luci dell'alba, ci troveremo tutti quanti per godere di questo magico e straordinario momento. domani, sabato 15 luglio, dalle ore 17.30, inizieranno i festeggiamenti per la serata conclusiva del Torneo delle Contrade a Gleris. Un grande ringraziamento per questo evento, che è stato, come anche l'anno scorso, di grande successo, a tutti i collaboratori, a tutti i volontari dell'associazione polisportiva Gleris. Sempre domani, il Guru Live, concerto all'Archiclar, apertura a chiosche alle 20.45, inizio concerto alle ore 21.00, ingresso libero per i soci. Mentre domenica 16 giugno, ci sarà la visita guidata alla mostra, mappe di identità presso la chiesetta di San Lorenzo, proprio con l'artista Lorenzo Zopolato. Un momento molto importante per tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzare questa mostra, ma anche per chi non la conoscesse, è l'occasione per conoscere l'artista, approfondire tanti aspetti di questa mostra. A partire dalle ore 16, appunto presso la chiesetta di San Lorenzo, per informazioni e prenotazioni, a sonart.udine.gmail.com oppure al numero di telefono 340-3587-630. Ricordiamo anche le mostre aperte questo fine settimana, mappe di identità ovviamente, sabato e domenica dalle 10.30, alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00, memoria del colore di Sonia Costantini all'antico ospedale dei Battuti, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.00. Ricordiamo poi che è possibile acquistare i biglietti per i grandi eventi dell'agosto sanvitese, dei concerti estivi del festival Stelle d'Estate, Carbrae 26 agosto, Francesca Michelin 29 agosto e lo spettacolo del comico Max & Johnny il 30 agosto su Ticket One o presso i rivenditori indicati sul sito di Azalea. E inoltre è partita la vendita dei biglietti del musical Forza Venite Gente, prevista per il 31 agosto, sempre nella nostra piazza del popolo, acquistabili esclusivamente sui canali online di Ticket One. Sempre per quanto riguarda questa manifestazione, questa bella manifestazione tra la storia e la gente qua in Corte del Castello, ricordiamo che martedì 18 luglio, alle ore 21 nei gradoni del castello ci sarà l'evento, l'evento culturale Anarchia con Angelo Frollo, un intellettuale, uno scrittore che tutti conosciamo e la sua presenza è sempre molto gradita a San Vito. Ricordiamo sempre per la settimana prossima per quanto riguarda la manifestazione, la programmazione di Un Libro, Un Vino che è serata di mercoledì sotto la nuova copertura di Piazzetta Pescheria ci sarà la presentazione del libro New York, Paul Oster and Me, un libro che narra e mette al centro l'esperienza dell'autore Euro Rotelli a New York, quindi per tutti gli amanti di New York e di Brooklyn questo è un momento imperdibile. L'autore ci accompagnerà in una perlustrazione emotiva della città durata tre anni e alla fine, alla conclusione dell'incontro, della presentazione del libro ci sarà la degustazione di vini come naturalmente prevede questo tipo di evento con Mr. Bio Wine. Non mancate, grazie e buon fine settimana a tutti.